7 giorni significa che dimagrirete con la rapidità di quasi un chilo al giorno spendendo 50.000 lire più le spese, quindi fate voi, io credo che... Sono qua! Allora, fate voi, ma è molto meglio la facciate in fretta perché un'altra volta non ci sarà più! Allora, allora, sono un po' arrabbiata, perché? Perché molte persone che stanno prenotando il sistema dell'Elia addirittura si arrabbino perché trovano sempre il centralino occupato, ma dico, ma non vi vergognate, ma cosa volete? Che vi portiamo a casa anche, non so, un ubbabà, ma che volete? Un bracciale d'oro, ma cosa volete che vi portiamo? Una macchina, un'automobile, una pelliccia, ma cosa volete? Avete impiegato la vita ad ingossarvi, a mangiare, avete impiegato la vita a strangossarvi, avete spaleggiato i supermercati, avete mangiato anche il vicino di casa, avete mangiato tutto quello che avete trovato e adesso... E allora, cosa vorreste? Eh? Vi facciamo anche la garanzia in banca per caso? Per assicurarvi il lardo? Vergognatevi! Vergognatevi! Ho detto, vergognatevi! Vergognatevi! Dove eravate voi quando Vanna Marchi lavorava per voi? Dai! Cicciona! Oh, grassa! Oh, lardosa! Mi vuoi rispondere? Dov'eri tu? A mangiarti i bucatini alla matriciana? Dov'eri? Ma guarda un po', gentaglia! Che gente! Guarda che gente! Guarda che gente! Quando devi aspettare un attimo il telefono perché sono tutti occupati, capirai? S'arrabbiano pure, ma che vuoi? Però aspettano un'ora e tre quarti per fare la pastarella al forno. L'aspettano! Ne hanno già mangiato la metà cruda prima, figurati! Sì, sì! Apirai, italiani, che io amo tanto, togliergli la pasta asciutta, togliergli, non dico le donne, perché ormai sono tutti gay, che vuoi toglierli? Frega un cazzo a nessuno! Voglio dire, no! Oh no! Allora, cosa volete fare? Volete calare? Da Bannamarchi dovete passare! Ce n'è per nessuno, eh? Tanto, soltanto il sistema DELI vi fa calare, non c'è niente da fare? Allora, sistema DELI per dimagrire cinque chili in sette giorni, mangiando quello che vi pare, senza rinunciare a niente. Guarda un po', poi s'arrabbiano anche perché devono aspettare al telefono. Ma perché non te ne vai? Eh sì, cosa vuoi? Non vuoi telefonare? Non telefonare! Cosa vuoi? Non vuoi aspettare col ditino? Col ditone e salciccione? Non vuoi aspettare un attimo? Vai! Cosa vuoi? Fuori piove? Fatti un po' rinfrescare il cervello, va bene? Beh, allora, avete avuto la possibilità, l'opportunità, unica, che non si ripeterà mai più, di avere per sole 200.000 tutto quello che volevate? Non vi è bastato? Bene, non ve li do più. E adesso parliamo di pioggia, di grandine, che grande me la faccio arrivare io sul cervello. La neve vi faccio venire, faccio lavorare le peste questa, tomba andrà via liscio come l'olio, anche se è ingrassato un po'. Insomma, manderò qualche scatolina di sistema a Dele. Vado via, in cerca di una vita sopportabile. Dov'è la vita sopportabile? A pochi chilometri abbiamo le bombe che vengono giù da tutte le palle. Avevo un sogno nella mia vita, volevo andare in quel paese bellissimo, meraviglioso, hanno messo la bomba tomica. Povera Vanna Marchi, Roberto non me ne va bene una. Ma hanno trovato un autista, anche a Pesna Cidane. Ha detto che lui fa benzina soltanto il sabato. Oggi è un altro giorno, quindi siamo rimasti a piedi. Sono entrati in un bar per prendere un caffè, era mancata la luce, non si poteva farne un caffettino. Povera Vanna Marchi. Eh, cosa devo fare? Dove devo andare? Vado a sentire cosa dice il maestro. Vado di nascosto, non ditela a nessuno. Arrivo? Arrivo? Sono peggio del gabibo. Arrivo? Scusa un attimo. Pronto? Eh? Va bene, grazie. Ride? Sarei meglio io di chi, scusi? Pronto? Ah, andrei benissimo io a far trissima notizia. Grazie al telefono. Ah, lo so? Eh? Sì. Ma noi siamo in tre però. Cinque. Ah, il gabibo, il gabibo è sacro. Sì, sì, sì. Il gabibo ci vuole, è sacro. Grazie. È un po' grasso, no? Guarda che non è mica grasso il gabibo, eh? No, 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 no. No, 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 è proprio il camicione rosso che gli hanno messo a posta, eh? No, 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 lui è magro. Sì, che lo conosco? Come non conosco il gabibo io? Io conosco tutti. Assoluto, bella. È brutta? Oh, a Napoli dicono bella a tutti. Io dico bella anche a lei. Arrivederla, signora, grazie. Cosa vuol fare? Un legamento d'amore? Non c'è problema. Ma perché vuol fare un legamento d'amore? No, ma mi tolga la curiosità. 081, 394. Ma cosa vuol legare? Ma lo mandi a zappare il mare. La saluto, signora, arrivederla. Arrivederla. Volevo fare un... Sai chi ci sta seguendo adesso? No. Laura della Costa Rica. Davvero? Davvero. Sì. Cioè, non ci sta seguendo dalla Costa Rica, eh? È a Novara. Beh, lo immagino bene. Ah, perché io mi sono... Anche perché? Mi sono rimasto un attimo. Ancora... Me l'ha nati, non riusciva a capire. Non c'è stato anche internet, ma ancora questa cosa non l'abbiamo. No. Un giorno magari. Ma io penso che prima o poi arriverà. Sì. Non ho voglia di lavorare per voi. Perché io ci pensavo l'altro giorno. Allora, ve lo racconto molto brevemente. Una ditta molto importante ha proposto a me e mia madre di presentare determinate cose che noi non presentiamo perché per quanto riguarda il dimagrimento io presento il sistema deli perché credo in quello. Di conseguenza io le mie parole le spendo per le cose in cui credo e non è vero che i soldi sono sempre soldi, perché siccome io come mia ricchezza personale, bella o brutta che sia, ho la mia faccia e ho il fatto che se dico una cosa è perché ci credo e perché corrisponde a verità e la stessa cosa riguarda Vanamarchi, però dentro di me pensavo, dico ma che io tutta la mia vita sia proprio destinata a parlare ai grassi? Cioè il mio destino è fatto per parlare solo ai grassi? Io mi rifiuto, eh? Sì. Mi rifiuto di credere questa cosa perché per me, io, di una persona grassa, scusatemi se ve lo dico, ma non ho rispetto. Non ho rispetto per un semplice motivo, che una persona, come dico sempre, non è che va a letto la sera che pesa 45 kg e si sveglia il giorno dopo che ne pesa 140, cioè i chili arrivano gradatamente, arrivano piano, arrivano piano, arrivano piano e diventano, prima sono due, poi sono cinque, poi sono otto, poi sono quindici, poi sono trenta, poi sono 150 e più voi ingrassate, più balle raccontate, più voi ingrassate, più cattiverie arrivate a fare, più diventate invidiose, più diventate cattive, più diventate litigiose perché odiate il mondo, perché vi fa schifo tutto, perché ce l'avete con tutti, perché non vi va bene niente, perché avete a dire su tutti, quindi io spero ardentemente, spero un giorno di finirla, di dover parlare a voi, veramente io mi rifiuto di pensare che la mia vita sia rivolta ai grassi, perché non ci voglio pensare, quindi approfittatene finché ci vedete, perché il giorno che Vanamarchi e Stefania si stancano, per voi grassi è la fine, a fra poco. Sono quanti e quanti? Ah, i ragazzi sono qua che stanno ridendo, impazziti come sempre, allora stanno ridendo moltissimo perché mi stanno dicendo che non si erano mai divertiti tanto, tanto cielo, con me vi divertite da una vita, cos'è? Oggi vi divertite più di sempre? Eh maestro, stanno ridendo tutti qua, allora il ridere ogni tanto fa bene. Allora, prima di iniziare il discorso serio sul dimagrimento, io vorrei prima di tutto dire, perché prima abbiamo dovuto interrompere per una brevissima pausa e ci siamo collegati con i centralini dove arrivano le telefonate. Ah, al proposito, volevo dirvi che fra pochi giorni io vi farò vedere in diretta, in televisione, logicamente, la nuova tv shop SRL Milano via Sant'Andrea 25, perché è sempre nello stesso stabile, però si è notevolmente ingrandita, quindi è cambiata radicalmente. Allora, siccome io sono abituata così, che non nascondo mai niente alle persone a casa, che sempre racconto tutto, il bene, il male, il brutto, il cattivo, il bello, tutto quello che succede nella nostra vita, e allora mi fa piacere, mi farà veramente molto piacere farvi vedere la nuova, non il nuovo stabile, perché lo stabile è sempre quello, ma la nuova sede, perché veramente è molto diversa, cioè si è ingranditano moltissimo, quindi il centralino che voi vedete adesso è quadruplicato, mi pare, sono quattro stanze così. Vi faccio vedere tutto, vi faccio vedere dove fanno i pacchi, vi faccio vedere dove esistono le elaborazioni dati, vi faccio vedere dove viene inserito il vostro nominativo, vi faccio vedere dove arrivano i prodotti, vi faccio vedere dove sta il maestro durante il giorno, vi faccio vedere dove stava Anna Marchi durante il giorno, vi faccio vedere tutto quello che concerne il lavoro enorme della TV Shop SRL Milano via Sant'Andrea 25. Bene, ve l'ho promesso, quindi la prossima settimana lo facciamo. Allora, prima di arrivare al vivo della situazione, quindi di parlare molto seriamente del sistema DELI, come del resto abbiamo sempre fatto da molto tempo a questa parte, volevo dire, contrabbattere, dire, associarmi a quello che ha detto mia figlia Stefania prima, dicendovi appunto che è vero, allora noi fra poco non venderemo più prodotti dimagranti. Voi direte, ma perché? Perché io anch'io mi sono stancata dei grassi, non soltanto lei, mi sono stancata anch'io, io non sono grassa, cioè io ho perso 14 kg adesso, lo vedete? Ne voglio dire, voglio dire, voglio dire, quindi mia figlia è magrissima, il maestro è magrissimo, tutti qui gli assistenti allo studio sono tutti magri, gli assistenti e le luci sono tutti snellissimi, i registri sono tutti magri, io mi contorno di persone snelle. Allora, voi direte, vabbè, e noi come facciamo? Allora, io vi dico, signori, è settembre, è il mese del mio compleanno, io di solito in settembre ricevo regali, però oggi chissà perché mi va di farne. Allora, volete dimagrire? Volete calare? Beh, io adesso vi lancio un'offerta, intanto che vedrete il numero lampeggiare in video, io fossi in voi, approfitterei! Perché? Perché un'offerta così non si ripeterà mai più! Attenti! Una confezione sistema daily durata sette giorni esatti, vi consentirà di perdere cinque chili di peso in tutto il corpo, a meno che voi non siate persone in età di menopausa. In questo caso, anziché perdere cinque chili, magari ne perdete soltanto quattro e mezzo, magari ne perdete soltanto quattro e tre, ma di meno no. In sette giorni, mangiando quello che vi pare, bevendo quello che volete, ovviamente ai pasti. Allora, io mi chiedo, quando una persona fa colazione il mattino, poi a pranzo mangia un piatto di pasta siutta, poi mangia un secondo, due contorni, una frutta e un caffè io credo che abbia mangiato a sufficienza. Quando la sera per cena rimangia un bel piatto di pasta. Un secondo, due contorni, un caffè, un frutto io ritengo che abbia mangiato molto. Magari voi adesso, attualmente, mangiate molto meno, però anziché dimagrire, ingrassate. Allora, il sistema daily cosa fa? Non fa altro che distruggere completamente le calorie che voi ingerite intanto che mangiate. È un bel business, eh, però. Allora, il sistema daily è così. Autorizzato dal Ministero della Sanità, prodotto naturale a tutti gli effetti, garantito, non ha controindicazioni di nessun genere, lo possono prendere i bambini a partire dai dieci anni di età arrivando ai duecentocinquant'anni di età. Che poi non si è più bambini, ma si diventa bambini ugualmente, perché mia nonna diceva che quando si diventa vecchi si ridiventa bambini. Allora, è un sistema autorizzato. Sistema perché? Perché vi consente, perché vi permette di mangiare quello che volete senza ingrassare. Anzi, voi dimagrirete. Allora, attenzione, perché adesso lancio un'offerta e poi me ne vado. Allora, una confezione sistema daily la pagate 50.000 più 20.000 di spese diventano 70, chiaro? E perderete 5 kg in sette giorni? Ebbene! Volete perderne dieci? Ve ne mando tre confezioni, tutte e tre a sole 100.000 più 20.000 di spese. Vi regalo una confezione scioglipancia. Ecco, allora, se abbiamo un piccolo filmato di scioglipancia, scioglipancia, vi dimostro come si utilizza lo scioglipancia, che è un prodotto unico nel suo genere e serve, lo dice la parola, a sciogliere la pancia. Pancia, stomaco, giro, vita e fianchi. È regalato, ripeto, regalato, alle persone che acquisteranno tre confezioni del sistema daily, tutte e tre, a sole 100.000 per perdere 10 kg, ripeto, 10 kg, che perderete in sole tre settimane. In tre settimane perderete 10 kg, d'accordo? Spenderete 100.000 più 20 di spese e avrete in regalo lo scioglipancia firmato Vennamerchi, ripeto regalato, ridico regalato! Bene, tre confezioni del sistema daily più scioglipancia regalato. Allora, lo scioglipancia viene utilizzato indistintamente dall'uomo e dalla donna, alla stessa maniera, non cambia niente, come del resto non cambia niente neanche per il sistema daily. Bene? Intanto che voi continuate a chiamare, io prima di avvicinarmi al centralino, perché sto perdendo un po' la voce, ho urlato un po' troppo prima, l'aria è condizionata, poi mi ha fatto il resto. Volevo salutare e dare il benvenuto, il ben rientrato a Laura dalla Costa Rica, perché è una nostra, chiamiamola, amica, perché l'abbiamo conosciuta in Costa Rica, però...